ciao a tutti e benvenuti sul mio canale ho preparato questa serie di video per ricordare il viaggio fatto in marocco poco tempo fa insieme ad altri tre amici matteo gene sicca e umberto abbiamo affittato le moto marrakesh e ci siamo sparati un giro d'anello di 1600 chilometri tra cui alcuni tratti di eserci visto che il viaggio ha durato almeno nove giorni ho deciso di suddividerlo più tardi questa è la prima parte della serie spero che vi piaccia buona visione che buon viaggio di due ore ciao finalmente arrivo Buon appetito! Dopo aver risolto un piccolo problema con Bancomat ci avviamo felici e stanchi e sudati verso l'albello. Siamo in un altro mondo, anche le strade. Sistemati i bagagli in albergo siamo andati a fare un giro a Marquesce. Cercavamo anche un ristorante di mangiare perché eravamo affornati. Il giorno dopo saremmo dovuti andare poi a ritirare il moto per iniziare a girare il barocco. Prima mangiare la carne con l'arte? Siamo leggeri stasera. Ci do la nostra cena. E' un po' di piazza. E' un po' di piazza. Ma prima tassi della vanta. Piazza. Piazza. Vai col piazza. E Matteo invece con le piavele. Ci sembra una piazza di quelle che trovi a piazza, a piazza. Un po' di agnello. Io li bruci, così poi non avrò problemi Ah, grazie Mastra via Allora, ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, abbiamo già tirato fuori i caschi e montato le cose che ci servono E adesso tra poco andiamo a ritirare l'Himalaya Buongiorno 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 Ma ci sono queste qui? No quindi Queste qua? Le due sono questi qua? Buongiorno Ah ok bene allora abbiamo scoperto che l'himalaya non ci sono e ci danno queste qua andiamo con la strana che non sono male l'unica cosa che solo uno avrà l'himalaya quando ci fiammiamo la prossima volta si stiamo un po meglio marocco 2024 con lucio l'altro youtuber lucenga e due ragazzi da in fondo se ne aprivi le moto e mo partiamo bene ed eccoci finalmente partiti adesso andiamo a cercare il distributore facciamo il pieno e la tappa di oggi dovrebbe essere sui 220 chilometri quindi da marrakesh a war mi sembra qualcosa del genere grazie a tutti grazie a tutti la devo mettere devo sistemare un po meglio la roba il problema è che se ti serve qualcosa ogni volta devi smontare il problema è che se ti serve No a 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 panoramica sui mezzi, sui potenti mezzi, la scrame di Matteo, la scrame di Umberto, con la super rete Spider, la scrame di Genet Travel, è è la mia Himalaya ma c'è una targa provvisoria, sai? eh sì, c'è una targhina che è si sarà quella tipo prova si ma targhetti con dei numeri microscopici non sembra di salire in uno di quei passi francesi, tipo la bonette a a colgutichka 2260 bene allora, Matteo ha fatto il pieno di pietre ci credo che non va alla moto, sei pieno di pietre non che posto che pesante bellissima non sa mai stare nel colorato qua incredibile bellissima c'è il vaso guarda mia figlia cosa c'è? ma figlia c'è la turca e non c'è lo sciacquone ci sarà un settio forse da l'acqua a casa mia c'è la turca a casa mia c'è la turca bene noi siamo berberi dell'agio berbero buona 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 Ci siamo scambiati la moto via Matteo perché voleva provare la differenza dell'Himeraion con la Scrappola. Il pedalino del freno dietro è altissimo. Ma non so che va più questa. Non so che va più. Però ci vuole andare. Ma va bene tornarti lì? Magari cerchiamo un posto leggermente... Non è che via, c'è ancora un posto? Siamo a Vua Zarzate, una città abbastanza rossa, la moschea. Siamo a Vua Zarzate, una città abbastanza rossa. Allora siamo arrivati a Vua Zarzate e Matteo ha subito bucato, è andato per fortuna c'è il signore qua che era accompagnato da argommiste e siamo in un palmetto, Matteo Sicca, Gene invece i chiodi li evitano e siamo in questa stanza qua, troppo bella. C'è i letti per un battaglione di persone qua, questo è il bagno a doccia, veramente carino adesso. Allora stiamo aspettando la cena, intanto abbiamo steso la roba qua dalle palme e è arrivato con il tè della sera. Duccio, c'è da compiare questo foglio? Sì. Lo fai tu perché non è andato a me ma forse è meglio per la qualità. è fatta la scuola di versamento del tè, adesso lo rimette dentro. qua. Così che si fa? Hai scaldato i bicchieri? Eh no perché così lo... Guarda quante bolle fa. Più come fa è meglio è. È meglio è. Si apprende più sapore forse. Non lo so lo fanno e lo fanno loro. Ah ho visto si lo fanno loro. Lo fanno loro? Sì sì. Però ieri invece non l'ho fatto. Finisce così il primo video della serie del Marocco. Nel prossimo video che uscirà tra una settimana andremo più a sud, alle porte del deserto. Proverremo il primo fuoristrada con le Royal Enfidi e ci avventureremo nella sabbia scoprendo che non è così semplice come potrebbe sembrare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A presto.